Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ci tenevo innanzitutto a ringraziarvi per le visite che ho ricevuto nel video precedente riguardante Genshin Impact. Mi fa molto piacere che sia stata apprezzata l'idea di poter realizzare diversi video dove si va a spiegare un pochettino come è strutturato questo gioco e quindi oggi vi porto un nuovo video dove questa volta parleremo in generale di come costruisco o per meglio dire come si costruisce un personaggio all'interno del gioco. Diciamo che un personaggio presenta diverse finestre che possono essere da cornice a quello che sarà il risultato finale del vostro personaggio ed oggi le andremo ad analizzare nel dettaglio. Parliamo degli attributi. Gli attributi come dice la parola stessa è la capacità o per meglio dire la possibilità di poter avanzare di livello il vostro personaggio. Durante la vostra esplorazione del gioco, durante la risoluzione dei dungeon e durante le missioni ovviamente principali di storia avremo la possibilità di poter ottenere i libri. I libri che sono ovviamente classificati in base alla loro rarità e alla loro qualità per quanto riguarda lo sviluppo dei nostri personaggi daranno la possibilità di farli crescere. Facendo crescere i nostri personaggi ovviamente miglioreremo le loro statistiche. Quindi più alto sarà il livello del nostro personaggio, più alto sarà il nostro potenziale in generale. Per quanto riguarda l'inizio del gioco, il livello massimo sarà il 40. Una volta raggiunto il livello 40 si avrà la possibilità di poter ascendere il vostro personaggio. Le ascensioni vengono classificate in base alle stelle che praticamente avete lì in alto a destra nel vostro personaggio. Una volta che il vostro personaggio avrà raggiunto il livello massimo, quindi avrà la possibilità di poter oltrepassare il suo limite, come potete vedere sul Razor che possiede già due stelline presenti all'interno della sua ascensione, dato che comunque ho già provveduto a sbloccare la prima ascensione, avremo la possibilità di poter ascendere e quindi aggiungere altri 10 livelli al cap massimo del nostro personaggio. Come potete vedere ovviamente i personaggi inizialmente che partono dal livello 20 avranno la possibilità di poter ascendere più facilmente. Una volta che avranno raggiunto la prima ascensione il livello cambierà e diventerà il 40. Una volta che avremo raggiunto il livello 40 e, come potete vedere, recupereremo gli oggetti che serviranno per l'ascensione, avremo la possibilità di incrementare il livello massimo a 50 durante la seconda ascensione. Oggetti che comunque si troveranno all'interno della mappa droppati dai mostri, alcuni si potranno craftare e altri addirittura verranno droppati dai boss presenti o all'interno della mappa o all'interno di alcuni dungeon. Una volta effettuata l'ascensione e ovviamente tramite gli attributi, quindi tramite i libri, avere la possibilità di poterlo portare al rank massimo, possiamo spostarci verso le armi. Le armi all'interno del gioco, così come i personaggi, vengono classificate in base alle stelle. Quindi avremo la possibilità di trovare armi ad una, due, tre, quattro e addirittura cinque stelle. Vi posso dire che però, soprattutto per quanto riguarda la fase iniziale del gioco, anche le armi tre stelle, così se proprio volete comunque giocare al risparmio massimo, in base all'effetto che hanno, vanno benissimo. In quanto non bisogna considerare l'arma soltanto per il valore attribuito dalle stelle. Cercate di guardare assolutamente l'effetto che possiede l'arma che andrete ad equipaggiare. Ci sono diversi effetti anche di armi a tre stelle che possono veramente ribaltare la situazione, potendone comunque ottenere diverse copie se si effettuano i pull all'interno del gioco. Quindi può anche rivelarsi più forte una spada tre stelle però con ascensione massima rispetto a una spada magari quattro stelle che ha un effetto buono ma che per colpa della sua rarità non può ascendere e di conseguenza non può raggiungere livelli elevati. Come potete vedere io possiedo diverse spade che comunque ho ottenuto tramite i miei diversi pull che ho effettuato all'interno del gioco. Gli effetti ovviamente vengono sempre scritti lì sulla vostra destra tramite ovviamente anche un riferimento per quanto riguarda l'attacco di base della vostra arma e in più anche una percentuale bonus che può influire sull'attacco, sul tasso di critico, sugli HP, sulla difesa. Quelle sono tutte caratteristiche individuali dell'arma che ovviamente si differenziano per giustamente qualità ma soprattutto anche per quanto riguarda l'effetto. Il mio consiglio principale è quello di andarvi a leggere assolutamente ogni effetto di ogni arma e soprattutto sia per quanto riguarda il vostro playstyle, quindi la vostra interpretazione del gioco e la vostra interpretazione del combattimento per poter effettuare diverse combinazioni e diverse opportunità di attacco ma soprattutto di strategia. Perché vi ricordo che questo comunque è un gioco molto strategico in cui bisogna costruire il team adeguato per gli eventi adeguati. C'è da dire che le armi possono essere potenziate e possono essere ascese così come i nostri personaggi quindi avremo inizialmente un livello massimo che arriverà al 20 e poi man mano riusciremo ad ascendere le nostre armi avremo la possibilità di aumentarne il livello. Le armi a differenza dei personaggi possiedono anche la rifinitura le rifiniture sono un pochettino, per chi mi segue su Dissidia Opera Omnia sono un pochino i limit break presenti all'interno delle armi quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi dovessimo ottenere un'arma uguale doppione in questo caso avremo la possibilità di poter rifinire l'arma fino a un massimo di 5 livelli. Una volta raggiunta la rifinizione massima così come questa spada che vi faccio vedere qui accanto apparirà un numerino in alto a sinistra che andrà ad identificare la nostra raffinatura quindi in questo caso abbiamo una stella che è già raffinata al rank 5 quindi massimo. Ogni raffinamento ovviamente andrà ad aumentare le statistiche in percentuali di quello che giustamente l'arma già fa a livello base. Inutile dire che le armi 3 stelle saranno molto più semplici da rifinire e da portare a livello massimo rispetto a un'arma 4 stelle che già comunque come drop può risultare anche più difficile. Alcune armi 4 stelle si potranno anche craftare quindi di conseguenza non abbiate timore a craftarvi un'arma per il vostro personaggio perché anche se doveste trovare il doppione potrete utilizzarla per la rifinitura. Le armi come vi stavo dicendo prima hanno la possibilità di poter essere trascese e quindi potranno ascendere anche loro a livello massimo trovando ovviamente gli oggetti che come potete vedere qui su schermo permetteranno la realizzazione della nostra arma e quindi aumentare le statistiche e aumentare anche il suo livello massimo. Quindi le armi funzionano allo stesso modo dei personaggi quindi ascensione e rifinitura. Però se le armi possiedono una rifinitura per quanto riguarda le loro copie e quindi diciamo sbloccare i limit break anche i personaggi possono farlo tramite le costellazioni. Le costellazioni non sono altro che la possibilità di poter limit breakare letteralmente il personaggio permettendo di poter acquisire potenziale e soprattutto di poter migliorare quello che già fanno all'interno del gioco. Infatti come potete vedere ogni costellazione avrà la possibilità di aumentare la potenza o aumentare gli effetti dei vari attacchi delle varie skill e di tutto quello che ovviamente farà da cornice al nostro personaggio fino ad arrivare a un livello massimo che sbloccherà addirittura un effetto unico che giustamente cambierà radicalmente il nostro personaggio. Quindi così come le armi anche i personaggi possono avere un livello di rifinitura. Questa rifinitura viene caratterizzata dalla costellazione. Ma non finisce qui perché esiste anche l'equipaggiamento l'equipaggiamento caratterizzato dagli artefatti. Gli artefatti in totale sono 5 e possono essere distribuiti tramiti fiori, piume, clessidre, calici e corone o comunque copricapi. Ognuno di questo slot avrà la possibilità di incrementare non solo le statistiche ma permettere di ottenere dei bonus se rispettiamo le condizioni del set. Infatti come potete vedere sul lato destro dello schermo abbiamo la possibilità di leggere le stelle dell'equipaggiamento che anch'essi variano da 1 a 5 la schermata principale di quello che viene aumentato subito dall'oggetto che in questo caso sono gli HP e poi successivamente tutti i bonus che possono essere sbloccati man mano che il nostro oggetto viene aumentato di livello. Perché anche i nostri artefatti avranno la possibilità di essere potenziati. A differenza delle armi e dei personaggi non possiedono l'ascensione quindi hanno un livello massimo che poi successivamente io ancora personalmente non ho scoperto che non mi sono voluto spoilerare. Tra i dettagli ovviamente ci permette di vedere le statistiche che vengono aumentate il set di cui fa parte il nostro equipaggiamento e vedere effettivamente come poterlo sfruttare nel migliore dei modi. Come potete vedere ogni set possiede un effetto speciale in base a quanti pezzi dello stesso set equipaggiamo alla volta. In questo caso il fiore che sto possedendo io con Razor fa parte della Resolution of Sojourner che ci consente di ottenere con due pezzi equipaggiati l'attacco del 18% con quattro pezzi equipaggiati incrementa il tasso di critico quando effettuiamo attacchi caricati del 30%. Quindi in base ripeto al vostro playstyle e alla vostra come dire e alla vostra interpretazione del combattimento del gioco potrete variare il vostro equipaggiamento cercando di far rispettare ovviamente le condizioni per i set. Essendo però soltanto 5 gli slot che si possono utilizzare è già chiaro che utilizzando due set diversi un equipaggiamento rimarrà sfuso e quindi potrà essere utilizzato un pochettino come bonus come jolly in modo tale magari da raffinare o comunque da poter potenziare un effetto che già possediamo di base. Infatti per quanto riguarda anche una build ipotetica che io ho idealizzato per il mio DPS essendo Razor comunque il mio DPS principale ho realizzato una build che aumenta come potete vedere sulla destra grazie al set bonus l'attacco in generale del 18% con due pezzi del Sojourner e il tasso di critico del 12% grazie al kit del Berserker quindi diciamo che anche in base al ruolo del vostro personaggio e soprattutto anche al moveset del vostro personaggio perché si possono sfruttare gli elementi si possono sfruttare diverse cose per permettere al personaggio stesso di effettuare danno o comunque di essere più incisivo all'interno del combattimento quindi in base ovviamente a quello che volete fare dovete gestire al meglio i vostri artefatti che fondamentalmente rappresentano il nostro equipaggiamento ultimo ma non per importanza abbiamo anche la finestra dei talenti i talenti non sono altro che delle migliorie per quanto riguarda quello che il nostro personaggio già fa a differenza della costellazione che bisogna ovviamente avere la copia del personaggio in questione per quanto riguarda il talento basta l'ascensione quindi più alta sarà la vostra ascensione più alto potrà essere il livello dei vostri miglioramenti infatti come potete vedere io ho migliorato a livello 2 queste prime mosse o comunque che sono fondamentalmente l'attacco normale il normal attack stillfang il claw and thunder che sarebbe praticamente l'attacco elementale che si effettua con R2 e la ulti che sarebbe il lightning fang aumentati tutti a livello 2 proprio perché con Razor ho effettuato l'ascensione al secondo livello quindi in base all'ascensione avrete la possibilità di poter migliorare il vostro personaggio di base è una cosa utile questa perché ovviamente non potendo pullare e quindi non potendo ottenere magari più copie del personaggio in questione abbiamo la possibilità comunque di poterlo migliorare gratuitamente o per meglio dire gratuitamente tra virgolette proprio perché il talento in un qualche modo compensa quello che è della costellazione certo la costellazione sblocca sicuramente più vantaggi e più bonus per qualsiasi personaggio essendo comunque caratterizzato dalla ricarica della skill finale dalla possibilità di poter ottenere più sfere elementali e quindi di conseguenza migliorare la ricarica della ulti quindi diciamo che le costellazioni danno un grosso vantaggio però il personaggio anche senza costellazione grazie al talento può sicuramente migliorare e diventare molto molto forte per quanto riguarda invece le build che io personalmente consiglio sui vari personaggi sono puramente a intuito sia per quanto riguarda il mio playstyle quindi sono una cosa puramente soggettiva però al tempo stesso possono anche essere concordate grazie al moveset effettivo del nostro personaggio infatti con Razor ho praticamente pompato quello che è il suo attacco di base essendo che io non sfrutto gli attacchi caricati con Razor perché lo renderei estremamente lento e poi ovviamente il tasso di critico perché comunque attaccando velocemente e attaccando spesso ho intenzione ovviamente di poter criptare il più possibile per quanto riguarda Fiskiel invece ho optato per una build un po' più concentrata sull'elemento dato che comunque Fiskiel come vi ho detto ha la possibilità di poter fa spawnare un corvo che effettuerà danni elementali costanti con ogni colpo che darà al nostro avversario ho optato per un elemental mastery aumentato di 80 punti e un martial artist che praticamente incrementa il danno d'attacco normale ed attacco caricato l'attacco caricato per chi utilizza arco e freccia non si basa sul tenere premuto il cerchio così come per i dps ma si basa sull'attacco caricato dell'arco quindi quando si tende l'arco con l2 si accumula l'energia e poi si rilascia successivamente col tasto cerchio quindi col tasto dell'attacco e quindi di conseguenza l'attacco caricato per i personaggi che utilizzano l'arco è molto importante perché delle volte si può comunque shottare o fare veramente tanto danno a un avversario mentre stiamo caricando l'arco e stiamo addirittura caricando l'attacco elementale quindi l'elemental mastery mi serve appunto per effettuare più danno tramite l'elemento ma anche per effettuare più danno tramite la combinazione degli elementi che andremo a vedere però in un altro video successivamente per quanto riguarda venti ho effettuato una build simile solo che a differenza dell'elemental mastery ho preferito praticamente l'energy recharge venti è un personaggio che comunque riesce ad accumulare abbastanza velocemente le sfere per quanto riguarda il suo attacco ultimate ma al tempo stesso l'energy recharge mi permette di essere più veloce per quanto riguarda la ricarica del suo attacco elementale quindi devo ammettere che potendo avere la possibilità di ricaricare le mie skill in maniera rapida e diciamo continua mi permette di essere molto più offensivo e molto più aggressivo soprattutto contro i multi target dato che venti è veramente veramente forte sia con la ulti sia con l'attacco elementale nei confronti dei multi target per quanto riguarda mona ho effettuato lo stesso ragionamento di fiscal dato che lei comunque possiede attacchi elementali di tipo acqua che vengono effettuati praticamente sempre lei qualsiasi tipo di attacco infligge lo status wet quindi lo status bagnato a tutti quanti i nostri avversari quindi aumentarle le elemental mastery è assolutamente obbligatorio e poi successivamente aumentare l'attacco normale caricato perché lei a differenza dell'arco con le frecce può caricare l'attacco tramite il tasto cerchio e fare un piccolo attacco aoe che colpisce tutti i nemici attorno all'area quindi è molto utile aumentare il danno effettuato del 15% tramite questi attacchi caricati ovviamente ripeto queste sono delle build che ho praticamente costruito io da solo in base al mio rapporto con il gioco quindi al mio stile di combattimento ma voi ovviamente sentitevi liberi di scrivermi anche sotto nei commenti quelli che sono nelle vostre build anche perché potrei io stesso trovarne giovamento e potrei anche poi ringraziarvi successivamente per le idee che ovviamente mi date tramite i commenti e tramite tutti i suggerimenti che mi fate anche su discord ovviamente come cioè ringrazio ovviamente come come sempre il protagonista poi ovviamente l'ho equipaggiato con tutti pezzi di attacco e attacco normale caricato dato che possiede la spada una mano quindi l'attacco caricato con cerchio è veramente utilissimo nel suo caso quindi mi conviene molto sfruttare l'attacco caricato essendo anche molto rapido la spada una mano come danno devo ammettere che non è male certo la spada a due mani effettua appunto dei danni molto più ingenti molto più pesanti però la spada a una mano come rapidità e come danno vi posso garantire essere molto utile in alcune occasioni quindi vi consiglio prettamente di di sfruttare questa cosa e sono sicuro che non ve ne pentirete per quanto riguarda gli altri personaggi non ho una build pronta proprio perché non li utilizzo fondamentalmente quasi mai ma tendo sempre a scambiare l'equipaggiamento in base ovviamente al personaggio che mi ritrovo ad utilizzare l'unica che giustamente utilizzo è Barbara al di fuori di tutti gli schemi essendo la mia curatrice almeno la mia curatrice principale ho messo praticamente la possibilità di farle ricaricare le skill il più velocemente possibile ma soprattutto avere quattro pezzi del kit exile mi permette di rigenerare energia elementale a tutto quanto il party quando effettua il suo attacco burst il suo attacco burst ovvero l'attacco caricato con triangolo non solo mi consente di curare tutti in questo caso ma addirittura adesso mi consente anche di accumulare energia quindi diciamo che ho improntato il mio team con attacco verso ovviamente i dps e soprattutto ricarica dell'energia e danno elementale per i supporti che mi consentono di effettuare le varie combinazioni con gli elementi detto questo non c'è nient'altro che vi possa dire al momento per quanto riguarda la costruzione di un personaggio e come soprattutto si costruisce un personaggio quindi spero vivamente che questo video possa esservi stato utile così come i precedenti io per il momento termino qui vi ringrazio per essere stati in mia compagnia fatemi sapere se questo tipo di video vi piacciono ma soprattutto se avete anche dei suggerimenti per quanto riguarda le build dei personaggi che magari possiedo io vi aspetto come sempre in live su twitch o qui su youtube con un prossimo video bye bye